Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Riapre dopo qualche mese di chiusura la necropoli di Campovalano a Campli in occasione delle giornate europee dell'archeologia. Questo è stato possibile attraverso il Comune, il Museo Nazionale Archeologico di Campli e i tantissimi volontari che si sono adoperati. Abbiamo formalizzato e ufficializzato un calendario estivo che sarà utile a tutti coloro che vorranno visitare la necropoli con una grande novità, quella dell'apertura nei giorni di sabato e domenica su grande richiesta dei tanti turisti che vengono a Campli. Abbiamo abbellito il sito di Campovalano, abbiamo allestito dei nuovi pannelli, dei pannelli esplicativi e turistici che attraverso il QCode consentiranno anche una traduzione in lingua inglese per i tanti turisti stranieri che continuano a venire a Campli, non solo qui alla necropoli ma anche alla Scala Santa e tutte le bellezze che abbiamo sul nostro territorio. Una necropoli che racconta oltre mille anni di storia e ora la gestione passerà al Museo Nazionale Archeologico di Campli che permetterà di collegare le bellezze del Comune. Quella di oggi è un'apertura importante perché segna il debutto della direzione regionale di Museo Abruzzo nella gestione di quest'area archeologica, infatti il Museo Archeologico Nazionale di Campli a cui aggregata si chiama Museo Archeologico Nazionale di Campli e Area Archeologica di Campovalano. L'importanza sta nel fatto che avere una regia unica, un unico direttore di questi due siti permette di articolare un polo museale, appunto un percorso museale su due siti, necropoli e Campovalano. È evidente che per avere un'idea completa e anche suggestiva di questi luoghi bisogna visitare tutti e due i luoghi. Non solo adulti ma anche molti bambini che visitano la necropoli per la prima volta. La sorpresa è proprio però nei bambini delle scuole di Campli che studiano la sua storia e le sue origini. Sì, soprattutto dai bambini camplesi perché a scuola insegnano la storia di Campli, insegnano le loro origini, quindi dire a un bambino di Campli prima di te, prima dei tuoi nonni c'era questo tipo di popolo o c'era questo tipo di cultura, di attività, di tradizione, per loro è una gioia immensa e tornano a casa raccontando quello che hanno visto in necropoli, quello che gli è stato spiegato a scuola e quello che gli è stato insegnato o gli hanno fatto vedere al museo. Questa mattina ci sono anche dei bambini, dei turisti che vengono dalla costa e quindi per noi è bellissimo. Grazie.